Glacier, 1560 metri, frazione di Hollomont, dove termina la strada saltata, ai piedi del Grand Convain. Questo è l'ultimo tratto di strada, abbastanza facile, mentre prima di questo punto la strada è molto molto dura. Questa è la conca che c'è con del glacier e su questo lato della valle c'è una bellissima cascata. Grazie a tutti.